Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. Il ridimensionamento delle vie del mare con l'approssimarsi della nuova stagione turistica desta preoccupazione negli operatori del turismo della costiera amalfitana. A farsi portavoce delle loro istanze è stato il distretto turistico Costa d'Amalfi chiedendo certezze che possano garantire al primo comparto economico e produttivo del territorio di poter fare una programmazione seria per la destinazione nel suo complesso. La nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno che introduce delle modifiche al regolamento degli approdi nei porti della costiera amalfitana ha prodotto per il momento una diminuzione delle corse da parte dei vettori delle vie del mare. La nuova ordinanza impone tra l'altro un distanziamento minimo di 5 minuti tra una corsa e l'altra e la riduzione della lunghezza dei battelli autorizzati ad attraccare nei porti di Maiori che passa da 32 a 23 metri e Cetara che passa dai 32 ai 27 metri. Una notizia che desta ancora più inquietudine tra gli operatori del turismo in vista dei nuovi voli che da luglio ci saranno all'aeroporto Costa d'Amalfi e che veicoleranno ulteriori visitatori. Andrea Ferraioli, presidente del distretto turistico Costa d'Amalfi, afferma La nostra non è una critica al regolamento o all'operato della Capitaneria di Porto ma una richiesta di cambiamento da parte di tutti nell'approccio alla mobilità della costiera amalfitana. Chiediamo un piano di mobilità complessiva dell'intera destinazione Costa d'Amalfi solo in questo modo si può garantire la possibilità di fare programmazione. Come distretto turistico siamo pronti a fare la nostra parte abbiamo i dati dei flussi di mezzi e persone e già da tempo ne abbiamo fatto risorsa comune per studiare la questione mobilità. La base per capire il sistema c'è, occorre operare insieme.